I rapporti con le persone erano molto buoni, cercavamo di aiutarci tutti quanti e poi noi noi bambini piccoli non è che facciamo tanto parte delle cose dei grandi perché ci tenevano piuttosto all'oscuro di tante cose, tante cose non ce le dicevano, la radio non ce l'avevamo tutti quanti perché allora c'era solamente come mezzo di comunicazione, come si dice di radio e questa non ce l'avevamo tutti perché era una cosa che avevano solamente le persone un po' più benestanti e quindi le notizie si sapevano sempre così, non mai certe. I nostri giochi erano dei giochi molto semplici, giocavamo con la corda, a saltare a corda, con la palla, avevamo delle bambole e nient'altro insomma, però eravamo contenti perché era quello che ci circondava, i giochi che avevano tutti quanti. Grazie